sono contento che in questo giovedì ricominciando le prediche corte anche da parte mia inizio con questo vangelo secondo matteo con due grandi insegnamenti bussate e vi sarà aperto cercate troverete chiedete e vi sarà dato questo il grande insegnamento di oggi la capacità di fidarsi e il bisogno di affidarsi bisogno di chiedere anche a dio questa è la preghiera questo è il colloquio spirituale con dio chiederlo nella preghiera se è cosa buona arriverà non sappiamo in quale forma e il secondo grande insegnamento beh guardate non potevamo iniziare meglio la giornata con la regola d'oro la regola aurea matteo 7 12 tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro questa è la sintesi della teologia la sintesi del cristianesimo la sintesi di anni e anni di studi alla fine è quello che conta fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te buona giornata cerchiamo di vivere questo in questo giorno di quaresima